Iron Group Jack Bailey, mio marito Howard. Ci sarà almeno uno che conduca una vita appena, appena decente. Ecco mio marito Sam e la mia amica Janet. Mia moglie mi ha, per così dire, prestato a Janet solo per metterla in condizioni di entrare in possesso dell'eredità di suo nonno. Sei tanto carino. Jack Lemmon e Romy Schneider in un classico del cinema americano. Scusa, me lo presti tuo marito? Martedì, alle 20 e 55.